Ciao e bentornati su Notebook Italia, oggi abbiamo il piacere di parlarvi dell'LG Velvet, un terminale che ha fatto sicuramente parlare tantissimo per il suo design, davvero ben riuscito, ma andiamo a scoprirlo anche in tutte le sue funzioni. E ovviamente essendo uno dei suoi tratti caratteristici non possiamo che iniziare parlando proprio del design e delle caratteristiche costruttive. Innanzitutto c'è da dire che a parte la bellezza del terminale stesso impressiona il senso di solidità e la qualità, sembra quasi di maneggiare un assoluto top di gamma e quindi il prezzo diciamo non proprio basso può essere in parte assolutamente giustificato dai materiali e anche dalla cura nell'assemblaggio. Il retro sicuramente spicca per questa finitura semilcromata specchio dai gradienti oro fino a rosa, è proprio specchio e quindi utilizzabile seriamente anche in tal senso cosa che farà piacere al pubblico femminile. Ovviamente il materiale è vetro ed è semplice e liscia, poi la back cover risaltano sicuramente le fotocamere messe in ordine di grandezza, di ottica con il flash posizionato quindi in fondo per ultimo. Ottimo il fatto che siano praticamente tutte incastonate quindi a filo della scocca, a parte il sensore principale che comunque non infastidisce nell'utilizzo senza una cover. Utilizzo poi senza una cover praticamente scontato anche per lui perché è impossibile davvero nascondere tutta la sua bellezza, però tenete conto che trattiene un pochino le impronte, le ditate, quindi ogni tanto sarà necessario dargli una ripulita. La bellezza comunque continua anche nelle cornici in alluminio che vanno ad accordare poi i due vetri, cioè quello frontale e quello posteriore, che sono entrambi con effetto edge praticamente simmetrici. Proprio il bordo diventa leggermente spigoloso e quindi da un lato permette di avere la presa abbastanza salda finché lo impugniamo, però non appena lo rigiriamo su se stesso scivola forse fin troppo bene, rendendolo quindi a tutti gli effetti un pochino una saponetta, quindi sarà necessario appunto attenzione nel suo utilizzo. Da citare che oltre comunque ai classici tasti sul fianco abbiamo anche uno dedicato all'assistente vocale, richiamo all'assistente vocale che trovo sempre preziosissimo. Le uniche zone praticamente piatte sono infine i due bordi, superiore e inferiore, e in quest'ultima zona, ovvero in quello inferiore, troviamo il comodissimo jack per le cuffie, che quindi rimane, la connessione Type-C con supporto all'OTG e anche la modalità desktop, anche questa comodissima se colleghiamo un monitor esterno, e poi abbiamo anche lo speaker che funziona in combinata con la capsula auricolare. Una combinata che funziona davvero alla grande, nel senso che non è eccessivamente sbilanciata, come avviene su altri terminali, anzi è ben riuscita, insomma ben calibrata, ed è anche ottima la qualità, come è ottima la qualità sia della ricezione che poi anche dell'audio in chiamata, sia noi che ascoltiamo che da chi ci ascolta. Invece nella parte superiore troviamo un secondo microfono che serve per la soppressione dei rumori, e poi lo slot ibrido per il dual SIM o una SIM più espansione della memoria. A proteggere lo slot abbiamo una guarnizione, perché sì, lui è uno dei pochi telefoni, della fascia, di questa fascia di prezzo, ad avere la certificazione IP68, e lo rende quindi impermeabile. Inoltre è praticamente l'unico ad avere la certificazione militare 810G, se quindi è uno smartphone costruito per durare. E ora andiamo a vedere la parte frontale, che è naturalmente dominata da questo bellissimo display OLED. Purtroppo sulla parte superiore rimane nel bene e nel male un piccolo notch, le cornici non è che siano proprio ridotte, però LG ha fatto un bellissimo lavoro rendendole simmetriche, tra parte superiore e parte inferiore, quindi dal mio punto di vista infastidiscono proprio di meno. La zona edge laterale è anch'essa in parte protetta da un bordo, quindi non è sinceramente mai capitato di avere dei tocchi involontari nel suo utilizzo. Alla fine anche le dimensioni sono importanti per carità per via del display da 6,8 pollici, però comunque lo spessore rimane sotto gli 8 mm, così come il peso che si ferma a soli 180 grammi, anche se francamente ve lo dico sembrerebbero di più, ma questo grazie alla struttura estremamente solida del prodotto. Ovviamente nella zona inferiore del display, della parte frontale, troviamo un sensore per lo sblocco con l'impronta, e sì, anche qui i miglioramenti da parte di LG sono stati secondo me abbastanza importanti perché il funzionamento è molto buono. Non siamo ancora ai livelli dei primi della classe in questo senso, però è sicuramente positivo, il posizionamento è buono, forse proprio leggermente verso il basso, però la velocità è ottima, mentre la precisione potrebbe essere leggermente migliorata, ma siamo comunque praticamente al 99% delle volte in cui riesce a percepire la lettura dell'impronta. E ora parliamo appunto del display che come vi dicevo prima è un 6,8 pollici con tecnologia OLED e mi aspettavo tantissimo vista la fama di LG nei televisori. I risultati sono positivi, però c'è un ma. Infatti di per sé i colori sono fantastici, la risoluzione è full HD+, ed è anche compatibile con le penne attive di tipo AS, ma rimane però ai classici 60 Hz. La tenuta cromatica comunque perfetta, i colori eccellenti, le immagini praticamente stampate, e vedete anche voi come nelle classiche immagini di test i risultati siano veramente sorprendenti. Però vi dicevo di un ma. Il ma è che anche se è dotato di questo tipo di tecnologia, la luminosità massima non è elevatissima. E questo associato al fatto che il display riflette molto la luce, in alcune giornate particolarmente assolate il suo utilizzo è diventato un pochino complesso. Quindi in realtà il display è praticamente perfetto in quasi tutte le condizioni, a parte quelle proprio limite d'estate sotto la luce diretta del sole, dove fa un po' fatica. E ora andiamo però a parlare delle prestazioni. E a bordo di questo LG troviamo quello che, dal mio punto di vista, è uno dei migliori processori, ovvero lo Snapdragon 765G, con connessione quindi 5G, con GPU Adreno 620. Troviamo anche 6GB di RAM in DDR4 e poi la memoria interna da 128GB di tipo UFS 2.1. E anche qui è uno smartphone un po' a doppia faccia. Infatti la personalizzazione di LG alcune volte mostra qualche micro lag o rallentamento, però non è nulla di preoccupante. Cambia invece quando andiamo ad utilizzarlo per i giochi, dove non c'è alcun problema, far girare anche quelli più pesanti senza problemi. E ovviamente anche nell'utilizzo quotidiano, con tutte le app, non mi ha mai dato problemi. Anche se alla fine non lo metterai proprio tra i più scattanti della categoria, tra l'altro sotto stress ho notato che scalda abbastanza nella parte superiore. Buono invece, tutto sommato, il risultato che mi ha dato in termini di prestazione della batteria, che qui troviamo da 4300 mAh, quindi buona. Anche qui non siamo al top della categoria, comunque, grazie al processore sono riuscito a ottenere, come vi dicevo, buone prestazioni. Infatti vedete che il primo giorno, installando tutte le applicazioni con l'esecuzione dei benchmark, sono comunque arrivato a stare con il 40% di batteria residua, anche se solo due ore e mezza di schermo acceso, perché appunto le applicazioni si installavano in background. I giorni di utilizzo, invece, più in normale, si sono attestati attorno alle 4 ore, 4 ore e mezza di schermo acceso, e comunque con una batteria residua di almeno il 35-40%, che in proiezione mi porta ad avere, teoricamente, una batteria completamente scarica alle 6-7 ore di schermo, però alla fine non sono riuscito, diciamo, non mi sono fidato a utilizzarlo per due giorni, comunque il consumo della batteria è anche abbastanza costante. Ed ecco, prima vi ho parlato della personalizzazione LG, che francamente non mi ha mai entusiasmato, però anche qui i miglioramenti con questo LG Velvet ci sono stati, e non sono proprio non significativi. Infatti abbiamo la LG UX9, e a tutti gli effetti graficamente il miglioramento, come vi dicevo, c'è stato, ora il menu è disposto in modo migliore e più accessibile, le grafiche sono carine, tutto sommato anche moderne. Nella sezione del display troviamo la possibilità di attivare le gesture, che sono praticamente identiche a quelle stock di Google, e quindi molto comode, con la possibilità, tra l'altro, grazie alla barra inferiore, di scorrere rapidamente tra le app aperte. Possiamo inoltre andare a nascondere il noccio, attivare lo always on, che funziona bene, anche se non è interattivo, e a parte poi quelle funzioni invece di ascolto della musica, dove funziona. Abbiamo inoltre la possibilità di attivare la modalità notte, che non è altro che il tema scuro, e anche scegliere, tra l'altro, se attivarlo solo in determinati orari. È presente inoltre qualche personalizzazione carina, come la scelta del carattere o del colore del menu, appunto, di LG. Tra le altre impostazioni, invece, possiamo trovare un'interessante sezione dedicata alla privacy, con alcune impostazioni specifiche, che in realtà non tutti i produttori hanno messo, e francamente anche questo l'ho apprezzato. Ampio poi il settore dedicato alle estensioni, dove troviamo una serie di opzioni aggiuntive, proprio specifiche di LG, tra cui Smart Doctor, che ci dice come sta il nostro dispositivo e come renderlo più veloce, o il Context Awareness, che invece ci permette di scegliere una serie di impostazioni in base al luogo in cui siamo. Abbiamo poi le classiche sezioni gaming e dual app, che ci permettono quindi sia di migliorare le prestazioni di gioco, oppure di andare a duplicare alcune app. E troviamo anche la possibilità di risvegliare il nostro dispositivo con il doppio tocco sul display, anche questa è un'opzione decisamente comoda. Concludo comunque ricordando che al momento qui abbiamo Android 10, naturalmente, con le patch di sicurezza di giugno, tutto ok poi con le licenze DRM, quindi con i contenuti in streaming da Netflix o da Amazon Prime. E prima di passare poi al comparto fotocamere, andiamo a vedere un attimo cosa c'è all'interno della confezione di vendita. Il contenuto è abbastanza risicato, diciamo, avendo solo la classica spillina, per rimuovere le SIM, il cavo e il caricatore che è rapido ma non esaltante, diciamo, visto che è un 16,2 Watt, però il telefono supporta la ricarica fino a 25 Watt, inoltre è presente la ricarica wireless, 9 Watt, NFC, poi per i pagamenti con Google Pay. E ora andiamo a vedere le fotocamere, un campo dove LG non si è mai, diciamo, contraddistinta per prestazioni eclatanti e qui, anche in questo caso, diciamo, per le foto il discorso un pochino si ripete. In ogni caso, quello che troviamo a bordo è il classico sensore principale da 48 megapixel con apertura focale f1.8, la grande gollare da 8 megapixel con un film, con un field of view da 120 gradi e apertura focale f2.2 e poi abbiamo un sensore di profondità da 5 megapixel, manca quindi, diciamo, un sensore specifico dedicato allo zoom che quindi sarà fatto solo via software. A proposito del software, ci tengo a farvi vedere quello specifico di LG perché è abbastanza classico, però ordinato, in quanto troviamo nella zona inferiore la scelta tra il modo di ripresa, se foto o video, quindi il ritratto, in alto troviamo anche le funzioni speciali come la vista notturna, panoramica, oppure la manuale. Nella zona superiore, invece, abbiamo le impostazioni secondarie come la scelta del flash, dell'HDR oppure della risoluzione. Detto questo, in ogni caso, le foto sono di ottima qualità e vi faccio vedere quindi qualche scatto che ho realizzato di giorno. Da menzionare sicuramente una corretta taratura dei colori, una buona definizione, saturazione, in generale, quindi, le foto sono soddisfacenti con il sensore principale. Buono e ben riuscito anche il buche naturale, anche se la messa a fuoco, sinceramente, nei soggetti più vicini non è proprio infallibile, come potete vedere in qualche foto. La funzione di sfocatura dello sfondo è soddisfacente, ritaglia in modo discreto i soggetti, anche se, francamente, non la metterei tra i migliori. Di notte, invece, purtroppo, secondo me, le prestazioni calano abbastanza, anche attivando l'opzione notte, infatti, il risultato migliora, ma è sicuramente molto lontano dai migliori della categoria e dai diversi competitor, alla fine, anche della sua fascia di prezzo. Le foto riescono a ingolbare, quindi abbastanza luce, però sono impastate e poco definite, dal mio punto di vista. Dove, invece, cambia completamente faccia questo Velvet è nell'ambito video che mi ha veramente, veramente sorpreso per come è riuscito, per come vengono bene. Infatti, sono molto stabili, di ottima qualità. Possiamo attivare l'opzione Steadicam per renderle ancora più stabili, però la risoluzione, in questo caso, viene ridotta al solo Full HD. Però, in ogni caso, non serve, perché anche in 4K le riprese sono ottime e stabilizzate perfettamente, quindi la Steadicam ho utilizzato da solo in scene veramente complesse o molto movimentate. La messa a fuoco poi è abbastanza veloce, comunque delicata. In generale, ripeto, la qualità del filmato è veramente più che soddisfacente, ottima. Sempre di alta qualità, tra l'altro, anche i video con la fotocamera frontale che sono anch'essi ben definiti, ben riusciti e danno una gran soddisfazione, è veramente raro vederli così belli, anche in questa fascia di prezzo. E prima di arrivare poi alle conclusioni, quelle che sono i miei pensieri finali, andiamo a vedere anche l'accessorio che possiamo abbinare, ovvero il Dual Scream, ha puntato molto LG su questo. Io ho fatto qualche giorno in sua compagnia e ne ho capiti i vantaggi e i svantaggi. Tra i vantaggi, sicuramente, da menzionare la possibilità in ambito business di avere due applicazioni aperte oppure di avere la comodità di una tastiera su uno schermo e il testo sull'altra facendolo diventare una sorta dei communicator di Nokia del passato, come anche per chi gioca poi la possibilità di avere i comandi di gioco sempre sul secondo display. Gli svantaggi sono le dimensioni che diventano veramente importanti, difficili da gestire, poi il suo peso, ma ancora di più forse si sente la mancanza di un display esterno più completo rispetto a quello che abbiamo qui che invece ci permette di vedere solo le informazioni di base come una o due icona delle app da cui abbiamo ricevuto i messaggi e poi poco altro. E quindi in conclusione uno smartphone che ha fatto sicuramente parlare di sé per il suo design che è migliorato rispetto ai precedenti LG ma che mi è piaciuto per tanti aspetti e che con qualche aggiornamento che riuscirà ad andare a affinare un pochino il software non tanto per la sua bellezza nell'interfaccia quanto proprio per la sua reattività in alcuni frangenti diventerà un telefono sicuramente interessante quando magari anzi già lo si ritrova a circa 500 euro beh a questo prezzo vi portate a casa forse uno dei migliori in ambito video un telefono comunque prestante e a cui manca davvero poco e con IP68 certificazione militare una rarità. Detto questo se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare qua sotto un commento oppure un mi piace noi ci rivediamo ad una prossima recensione un saluto da Daniele Pintus da Notebook Italia e da LG Velvet grazie a tutti